Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere qui al nostro pubblico e questa sera in un nostro appuntamento di alumnart abbiamo qui con noi Matteo Boato, alumnus nonché insomma pittore, quindi direi che possiamo iniziare subito con la prima domanda. Buonasera. Per rompere un po' il ghiaccio Matteo ti vorrei chiedere un po' di parlarci un po' di te, in particolar modo dalla tua biografia si può vincere insomma che ti sei laureato nel 97 in ingegneria civile presso Unitrento e come un fulmina c'è il sereno, così si legge, dal 2001 ti dedichi alla pittura, quindi se hai voglia parlaci un po' di questo aspetto biografico. Sì, io prima ho studiato musica fino al 92 e ho finito il conservatorio con chitarra classica che poi poteva diventare la mia professione. In realtà ho iniziato ingegneria poco prima e appunto mi sono laureato nel 97, al tempo c'erano dei percorsi annuali un po' gravosi diciamo, non che adesso sia leggera all'università, ma era molto macchinoso, si arrivava a giugno ancora senza esami dell'anno perché non si potevano proprio dare. Quindi insomma è stato difficile. Io tra l'altro mi sono reso conto che poteva essere la mia strada fino a un certo punto, ma l'università l'ho fatta, l'ho presa proprio di petto. Quindi sono uscito il secondo del corso e poi ho dovuto fare il militare, corpo tecnico, cioè ingegnere all'interno del servizio militare a Roma e Firenze e da lì però è partito l'embolo. Mi è successo una folgurazione per certi versi, ovvero un ritorno in realtà all'interesse della pittura che avevo da piccolino, ma veramente piccolino per motivi proprio familiari. E ho cominciato a dipingere in modo sostanzioso e anche costruttivo per certi versi. Quindi poi sono stato a Bruxelles sempre come ingegnere, a Trento in uno studio di progettazione e poi in Telecom. e nel 2001 infatti in una situazione dove non mi piaceva il lavoro, non mi soddisfava in forma definitiva e vedevo un po' la vita chiudersi all'interno di mura sempre più definite e appunto respirando poco ho mollato tutto, ma nel giro di tre giorni, nel senso che poi mi hanno accettato la mia dipartita con serenità e per me è stato salto nel vuoto perché io non avevo onestamente nulla in mano e ho cominciato a dipingere in modo strutturato perché poi l'ho presa come un'attività lavorativa tutto tondo, insomma era ben di più il tempo che dedicavo alla pittura rispetto a quello che facevo prima con l'ingegneria. Però è tutto un altro ambito, evidentemente è molto difficile capire quale sia il nesso, forse non c'è neanche, c'è stato dopo, l'ho recuperato dopo, sia la musica che l'ingegneria. Il salto è stato fatto perché in qualche modo ho sentito una voce che mai mi si era presentata fondamentalmente, che è quella della, io lo chiamavo lo stomaco, poi qualcuno mi dice ma guarda che nell'intestino c'è un secondo, comunque cervello da lì potrebbe essere partita sta cosa, sicuramente non era la testa perché il ragionamento non avrebbe mai funzionato in un'ottica di questo tipo, nel pensare di stare sereni insomma in un lavoro che ti possa accompagnare per tutta la vita, ero a tempo indeterminato, era veramente una follia e lo è stato anche verso tutti i miei vicini, familiari e soprattutto genitori insomma perché mi hanno guardato non straniti ma terrorizzati insomma in qualche modo, però è stato poi una, non spingere il carro che non si muoveva, ma proprio nell'andare, nel prendere un treno insomma invece. Io mi sono organizzato tante moste da lì in poi, anche cose che mai avrei pensato di fare e soprattutto in modo autonomo, senza appoggiarmi a nessuna galleria o promoter, qualcuno che in qualche modo prendesse in mano e mi accompagnasse ecco, questo è stato un altro rischio enorme, e però mi ha permesso di andare in Scozia, in St. Andrews subito, ma a Belfast, a Glasgow, in Olanda, in Francia, in tempi molto brevi insomma dove ho fatto esperienze di tutte le forme. Da lì in poi io per quattro anni ho vissuto tra Londra e Barcellona e Trento in modo molto alternato per poi invece ritrasferirmi nel 2006 in Trentino in modo diciamo stabile per quanto riguarda la residenza se non altro, anche perché ho avuto una prima figlia e poi una seconda che è nata un po' dopo, ma insomma lì si crea una situazione più difficile da scecchierare. Mi fermo ma se volete vado avanti volentieri, nel senso è stato bellissimo, per me è stato bellissimo, nel senso che per la prima volta veramente, perché non era stato neanche nella musica così, mi sono sentito con in mano magari una bicicletta ma che avevo costruito io insomma, e questo mi ha dato molta energia e al tempo poi vivevo veramente di grande felicità quotidiana e poi pian piano ho dovuto strutturare il lavoro, mi sono creato una situazione, ho cercato di trovare una situazione che fosse in qualche modo non troppo legata ai venti e alle tempeste che potevano in qualche forma disancorare tutto e quindi ho diversificato il lavoro in qualche forma, nel senso che una parte era dedicata all'attività pittorica, una parte alla promozione, una parte all'online, una parte ai corsi di formazione che si sono in qualche modo poi avvicendati, corsi di formazione in progettazione artistica, tutte cose che però si sono integrate mano in mano. Io sono stato molto molto libero in questo senso e anche nelle tematiche, io ho iniziato con, me le farei vedere magari qualche piccolo primo episodio di dipinti. va bene, questa serie di lavori mi piacerebbe farvela vedere però in una forma più consapevole. Allora, io ho lavorato molto in modo pittorico intendo, tentando di affrontare la tematica della casa e della piazza da punti di vista differenti rispetto alla soluzione diciamo classica, cioè l'uomo che vede qualcosa, l'uomo, donna, l'essere umano che vede qualcosa e lo rappresenta per me in una soluzione diciamo convenzionale. Quando mi sono trovato di fronte a questa scelta, cioè di un punto di vista fisico diverso da quello umano o convenzionale, adesso si potrebbe dire da drone ma non ho mai usato, mi sono anche reso conto che quella era una via molto interessante per la comunicazione personale in campo artistico e questa soluzione mi ha portato ogni volta a scegliere una via diversa e personale per affrontare il singolo soggetto, che non significa sempre essere folli e scegliere il nuovo forzatamente, ma significa far vedere il mondo in qualche modo con i propri occhi, non nella maniera che chiunque potrebbe vedere, potrebbe raccontare. Questo modo di alzarsi in volo in qualche forma sulle piazze o su altre tematiche, come vi farò vedere dopo, parche e paesaggi extraurbani, boschi. È stato poi un leitmotiv che mi ha accompagnato sempre, nel senso che vi faccio un esempio molto concreto, ma artisticamente non interessante. Se io vado in un bosco, voi vedete adesso il cambio d'immagine, spero, vero? Siamo nella... è come prima, vero? Sì, adesso lo vediamo a schermo intero, sì, sì, confermiamo. Allora, se io entro in un bosco e voglio raccontare di un bosco, posso fare l'essere umano che ci entra nella forma convenzionale, racconta quello che può, ma se io salgo e vado a metà di un albero e mi siedo su un ramo, comincio ad avere una visione mia. Se ci vado di mattina, di sera, di pomeriggio, con l'umore nero, in modi diversi, ho dei racconti che sono sempre diversi e a questo punto faccio entrare un altro punto di vista di cui vi parlo fra un attimo. Torniamo a quello fisico. Se io mi avvicino alle foglie, guardo per terra, scavo, oppure alzo il naso, ho comunque una scelta compositiva, pittorica, che è straordinariamente autentica in qualche modo, personale. Dopodiché questo non vuol dire che il lavoro pittorico funzioni, che vada bene, che abbia senso, che sia interessante, perché non è solo quello il quadro, ma è già un primo passo. Il secondo passo è quello di scegliere di raccontare non tanto quello che si vede con gli occhi, ma quello che si sente in qualche modo. Ovvero, io sto guardando l'albero, sì, però a chi interessa avere una foto pittorica dell'albero? Onestamente siamo pieni di possibilità. Già da 150 anni lo siamo con la fotografia. I primi del Novecento sono ricchi di pittori che dicono ma cosa ci facciamo qua noi? Non abbiamo più nulla, non possiamo dire più nulla, perché oramai c'è la fotografia, sì, possiamo metterci i colori, ma poi pian piano i colori sono pure diventati una caratteristica dell'immagine. Quindi si sono chiesti e richiesti cosa ci facciamo. Il cosa ci facciamo è raccontare il mondo dal proprio punto di vista. Per cui se il soggetto è l'albero, come in questo momento vi sto torturando con questa immagine, il racconto emotivo, chiamiamolo, il punto di vista emotivo è fondamentale. Allora, passiamo ad uno degli ultimi temi che io ho trattato quest'anno, l'anno scorso, sono barche, scelgo un punto di vista, scelgo un modo di rappresentare che non è quello che vedo ma è quello che sento e il terzo punto è fondamentale, scelgo di inserire tutto quello che so, l'esperienza, la filosofia di vita in qualche modo, il come si vede il mondo, il come vedo il mondo. Adesso io parlo in prima persona, ma è un discorso che si può fare con tutti gli artisti o con tanti artisti insomma. Se voi guardate i lavori di una persona che opera, che usa il linguaggio dell'arte, se veramente lo sta facendo in modo autentico, vi sta raccontando anche di quello che pensa, della sua filosofia fondamentale. Poi, io non sono un filosofo e probabilmente nessun artista lo è stato, ma quindi possiamo non usare questa parola, ma possiamo usare la parola comunque, la parte concettuale in qualche forma della comunicazione. È molto presente. la cultura che c'è dietro, la cultura non dell'essere umano, dello stesso artista. E se vediamo un quadro, adesso vi faccio vedere una cosa che appena vedrete direte, boh, non è tuo ovviamente, ci mancherebbe. Eccolo. Ecco, qua dietro c'è una marea, ci sono una marea di concetti. C'è una filosofia, che è Leonardo, con le sue otto porte, con i dodici apostoli, che sono dodici, sono le figure astrologiche, sono i vari segni zodiacali, le mani suonano un mottetto del quattrocento. Ci sono tantissime cose dentro. Questo in quadri rinascimentali era più facile che avvenisse. Credo che anche nell'arte contemporanea sia importante che ci sia questo aspetto, insomma. E una delle cose fondamentali per l'artista è proprio dire la sua, ecco, in qualche modo. Dire la sua su quello che sta tentando di raccontare pittoricamente con il suo linguaggio. Poi, se si va in accademia o in discussioni, diciamo, legate al riconoscimento di un artista all'interno di un ambito commerciale, allora si potrebbe anche dire che l'artista deve essere riconoscibile, deve avere un suo linguaggio personale che se lo vedi non dice lui, punto, non è nessun altro. Deve avere una sua, chiamiamolo proprio il linguaggio, alla fine, è una tecnica che in qualche modo lo caratterizza. Le realizzazioni che io vi sto facendo vedere scorrere velocissimamente sono tutte ad olio, sono olio su tela tendenzialmente di dimensione media, metro per un metro, poi vado in su e in giù a seconda delle necessità. E la materia, quello che voi vedete, questi gnocchi di colore che in alcuni casi hanno ombra, fanno addirittura ombra, magari qua si vede un po', no? Sono appunto colore ad olio puro che ha bisogno però di un sacco di tempo per l'asciugatura, circa un anno. Per cui la mia scelta che io ho fatto fin da quasi quasi dall'inizio, è stata quella di realizzare con una tecnica lentissima, ma lentissima mai usata nella storia, ma non perché io sia nuovo, ma perché nessuno se lo sarebbe mai permesso. Nessun pittore del passato avrebbe pensato di fare una roba così perché proprio intanto costa tantissimo e secondo commercialmente è una follia, è una gran follia. Torno io e vediamo se... Quello che succede però è che nello scegliere questa tecnica io sono libero dal fare quello che voglio fare e senza la necessità di sottostare ad una richiesta, ad una pressione. Ho una mostra fra due mesi? Beh, i quadri sono quelli dell'anno scorso, ovviamente. Quindi faccio quello che ho piacere e le tematiche che sono venute fuori nel corso degli anni sono tutte nate per... Adesso non vorrei dire un termine, lo uso lo stesso, permettetemi, dal cuore, non da... Non sono premeditate, sono proprio un racconto organico e sentito, ecco. Vediamo se riesco... Matteo, tu... Scusami, hai Carlotta. Volevo rivolgerti una domanda, Matteo, dal momento in cui appunto abbiamo parlato di questa matericità, del colore che usi nei tuoi dipinti, insomma nei tuoi quadri e in particolar modo volevo chiederti una curiosità, se questa è una scelta, in parte mi hai anche già risposto, però non sapevo se se potessi essere una scelta autonoma o se invece hai tratto spunto da qualche magari artista o da qualche opera del passato. Allora, credo che si attinga sempre da quello che si è vissuto, non tanto dal passato, dalla storia, ma dai primi anni di vita. Questo non è a risposta della materia, della matricità del lavoro, ma ci sono delle tematiche che io mi sono reso conto molto vicine a me e al mio sentire pittorico e anche linguaggi in qualche forma che vengono da quello che io ho visto fino ai 5-6 anni. L'imprinting, e lo so, non per i copi, perché evidentemente c'è memoria a zero già adesso, immaginare in passato, ma non è quello, è che avevamo delle stampe a casa e poi pian piano mi sono reso conto, stampe di quadri, poi d'autore, poi mi sono reso conto che particolari e suggerimenti compositivi venivano da lì. O da mostre, mio padre mi ha portato a tantissime mostre di livello perché lui era molto interessato, per esempio ho in testa dei viaggi faticosissimi per vedere Goya e Picasso insieme in una mostra a Venezia, ma credo che potrei dire centinaia di mostre di questo tipo, lui si muoveva tantissimo e proprio per piacere personale. La parte materica, diciamo che l'unico autore che in passato ha usato materia ma a me non piaceva, per cui non mi è mai attratto fino a pochi anni fa quando ho cominciato a apprezzarmi alcuni aspetti, è Van Gogh che usava tantissimo colore, ma non era così, in realtà era un po' perché si vede la pennellata, c'è matericità, addirittura Van Gogh si dice che abbia usato intanto dei colori che si sono opacizzati, quindi abbiamo dei quadri che sono completamente diversi da come li ha dipinti, soprattutto gialli e verdi, si sono opacizzati vuol dire che si sono ossidati e il pigmento si è avvirato verso un colore più affabile, lui usava delle cose, adesso non vorrei dire alla platea panzanate, ma diciamo come idea l'effetto potrebbe essere adesso del fluorescente, insomma delle cose scioccanti, proprio perché venivano dalla prima chimica, la voasie del fine settecento tavola periodica, cominciano gli industriali a produrre colori su base scientifica di Newton, della ruota di Newton, e con i nuovi mezzi che sono i metalli nuovi e gli elementi che la voasie costruisce e definisce. Il tutto è esplosivo, in poco tempo nascono un sacco di colori e gli impressionisti si sono avvalsi di un sacco di colori nuovi, però arrivano questi colori e nessuno sapeva se sarebbero resistiti o meno e molti pittori dicevano a Van Gogh stai attento perché quelle cose gli vanno male, però insomma morale non ho ancora risposto. Van Gogh usava un po' di materia, io non so perché, per grossonalità, non ho idea, a me piaceva moltissimo il vedere il segno, la massa, è come se fosse una specie di cosa, non dico da mangiare perché non ho mai pensato a colori d'olio, se li usate vi rendete conto che l'ultima cosa è metterle in bocca, ma mi dava proprio l'idea dell'impasto, della tridimensionalità, del lavoro, del solco, mi sono affezionato a questo e sono partito a ammassare sempre di più cercando gli unici colori che resistono alla caduta, alla forza di gravità in verticale che è una casa che si chiama Winsor & Newton, tutti gli altri colano di brutto e quindi ho cercato questa soluzione per poi partire con queste letture. Mi fermo così magari c'è qualche... Esatto, esatto, abbiamo qualche domanda anche da parte del pubblico, assolutamente di nulla. e Monica ti chiede come ti vedi nel futuro e ti chiede in particolar modo se ti vedi ancora come un pittore o se cambieresti lavoro, diciamo, professione. Beh, è fantastica questa domanda, devo dire, perché me la sono fatta anch'io. Ecco, in realtà ho capito che di me non posso prevedere nulla perché faccio solo pasticci. Tutte le volte che ho previsto di... poi ho preso altre strade. Ascolto molto da quando ho cominciato a dipingere la parte, diciamo, istintuale. Ecco, dove sento vado e se mi avesse proposto questa domanda due o tre anni fa avrei avuto un po' di difficoltà nel rispondere. Ora dico che mi vedo pittore ancora per un bel po' di tempo perché mi è tornata una voglia spaventosa, molto forte, come all'inizio, diciamo, fosse di più. Questo dovuto anche dal risetto che... l'emergenza, non solo i lockdown, perché... ma tutto il periodo dell'anno e mezzo, due anni, di scelte, diciamo, governative europee, italiane, soprattutto, ha creato negli artisti, perché molti hanno cambiato lavoro, ma perché non c'è modo di lavorare? Io a marzo del 2020 avevo 15 mostre organizzate, non a marzo ma in quell'anno lì, e ne ho fatta una in due anni, anzi due in realtà. Quindi vuol dire che da 30 mostre, 15 e 15 in due anni, io ne ho fatte due, senza poter vendere nulla, senza poter girare, è stato proprio molto difficile. E lo è ancora in parte, però, però, dico però, perché poi la spinta c'è, quindi continuo in questa... Ho dovuto fare un puzzle di varie attività in questi due anni. Non ho fatto solo il pittore, ho tentato di fare anche altre cose. Grazie mille. E passiamo alla domanda successiva, c'è Roberto che ti chiede se cambierai mai stile, immagino inteso come stile pittorico. Questa è un'altra domanda difficile, ma forse... Allora, quando si entra in un linguaggio ed è personale, è difficile abbandonarlo, ma soprattutto quasi non ha senso farlo, perché è come imparare una lingua che è tutta tua e scoprire che con il mondo riesci a comunicare in quel modo e poi a un certo punto dire, beh, no, beh, non lo uso più, perché dovrebbe essere proprio un'autoimposizione. Però l'evoluzione c'è, di sicuro. Quindi non so neanche bene se la mia risposta abbia senso. L'evoluzione... Stavo cercando un'immagine che tra l'altro avevo sotto mano prima, ma poi mi abbandona alle chiusure. tra quella che vi ho fatto vedere prima e questa, c'è un'evoluzione e probabilmente ci sarà anche in futuro. Dipende molto da me, da quanto io percepisca il mondo sempre in modo... da che punto di vista in qualche modo lo guardi. Qui ho cominciato a costare tecniche diverse che non avevo mai affrontato in modo, diciamo, da punto di vista lavorativo, se non altro. Acquerello e olio. Tra l'altro la parte barca che è quella solida, diciamo, è dipinta d'acqua e la parte acqua è dipinta d'olio. Ma il gioco è un po' più spinto, nel senso che qui io ci ho inserito delle letture musicali in realtà, perché per quanto riguardi la mia follia, io associo il rosso al A, il giallo al DO, l'Aggiorro, il blu al MI e via discorrendo in una, chiamiamola sinestesia, rapporto tra arti, diciamo, tra sensibilità che mi sono vicine perché sono appunto, suono la chitarra. Per cui, con la chitarra funziona in questo modo e lì mi sembra di suonare in qualche modo. Quando dipingo mi sembra di mettere dentro notte e le metto in qualche forma. Per cui, questo forse è un linguaggio che mi andrà sempre più ad essere caro, ecco, e questa potrebbe essere un'evoluzione per rispondere a Roberto in modo non completo. quindi in pratica non si sa, ma credo che una persona evolve, evolve anche solo, non c'è dubbio. Soprattutto pensando a quei cardini alla scelta iniziale che io ho ben chiara, insomma, del fatto di essere personale nella, su più fronti, ecco, insomma, nella voglia di esserlo, non nell'imposizione o l'imposizione. L'edita invece ti chiede se hai mai sperimentato con altri materiali oltre all'olio? Sì, senz'altro. Io ho fatto dei lavori anche in ferro tridimensionali, ferro, acciaio, inox, corten, ho realizzato molti pezzi in ceramica e allora forse qui conviene che io apra così sono più agile. il mio sito così ci metto di meno se come non era più uno dei preferiti e così vediamo se riusciamo a far vedere due cose in più. allora questi sono tutti quadri e va bene e ho lavorato con luci in una forma però non si apre in modo integrale non so se si veda ma insomma con dei Neon in collaborazione con un amico Mariano De Tassis ma abbiamo fatto ho lavorato ho fatto anche lavori in ceramica molto però molto grandi come questo questo è un refrattario dipinto con ossidi e smalti a levico 100 metri quadri di superficie questa è la ceramica bidimensionale poi c'è anche sono i pezzi tridimensionali che però non ho a disposizione in modo facile per cui non non ve li non ve li cerco neanche e esiste anche una appunto una sfera a volano magari mentre qualcuno mi propone una domanda provo a cercarla così abbiamo abbiamo già un'altra domanda assolutamente che ti chiede come hai fatto a proporti e a farti conoscere dal pubblico come vittore senza l'appoggio di un gallerista ok intanto grazie della domanda me lo chiedo anch'io adesso però vi faccio vedere se riesco per essere leader vediamo cosa succede qui perché ecco si intravede adesso non lo so se non vorrei appesantirvi questa è una parte della sfera fatta per un concorso volano la parte esterna in inox e l'interno in corten e sono due metri di diametro chiudo questo aspetto come ho fatto ho cercato ho cercato galleristi che fossero interessati ma era un periodo difficile quello per per questo questo rapporto artisti galleristi perché ce n'erano troppi di artisti in Italia e quindi a un certo punto ho detto io ci provo da solo questo ha creato anche un po' di fastidio negli stessi galleristi forse perché si è creata una situazione dove in qualche modo anche loro hanno visto che poteva poteva funzionare anche senza di loro ma questo mi è costato un sacco di lavoro in più perché una galleria ben piazzata ha una rete di di partners di altre gallerie per cui io espongo a Trento sì però mese prossimo sono a New York perché c'è la galleria amica che passa l'artista new yorkese a Trento diciamo che abbiamo fatto l'esempio con due ma quando sono dieci siamo a posto insomma io vado a finire a New York a Hong Kong e via discorrendo senza nessuno sforzo ovvero lo sforzo è quello di lavorare ma e sotto sorveglianza del gallerista che mi dice cosa fare ci vendono barche facciamo barche però magari per dieci quindici vent'anni non è detto insomma a me è successo di collaborare invece con gallerie dopo aver cominciato il lavoro da solo e soprattutto veneziane Venezia e Milano ed è un canale che funziona molto bene però queste erano gallerie che non avevano un contatto internazionale avevano una presenza in città forte c'è anche da dire che l'artista che è legato ad un unico ambito si ritrova che se quella galleria non funziona lui non mangia in qualche modo e a me per esempio il mio la mia esperienza è che nel 2008 io avevo quadri in due gallerie veneziane che mi dava che vendevano bene ambe due e i tre milanesi nel 2009 io avevo una presenza in galleria milanese in una galleria l'unica che era rimasta aperta e Venezia ha chiuso tutte e due quindi in qualche modo se io fossi stato legato ad un gallerista non sarei mai finito in cinque gallerie più quelle all'estero se io fossi se però il gallerista era solido magari diventavo anche qualcuno di più di quello che avevo una presenza nel campo dell'arte contemporanea più solida adesso ma c'è il rischio opposto insomma io le le realtà con cui ho collaborato meglio comunque visto che parliamo di gallerie e ovviamente quando si va all'estero è solo galleria perché non è che io posso andare e poi prendere in affitto lo spazio londinese stare due mesi a aprire e chiudere la mostra è stato con la Russia con Nizhny Nogorod con la galleria russa che poi con cui abbiamo fatto 15 tra le 12 e le 15 mostre in territorio russo tutto però anche in Siberia insomma anche a Chiro possiamo arrivare e Mosca e Ieroslav e tante altre città e con la Svizzera con Lausanna che ho ancora nel cuore perché lì c'era un rapporto all'antica diciamo cosa che adesso si trova con con difficoltà l'apporto nel senso di rispetto reciproco molto forte insomma tra gallerista e artista questo non vuol dire che il mondo delle gallerie italiane sia pessimo anzi è ottimo ma per entrarci ci vuole quella dose anche di quella particolarità che in qualche modo stuzzica il gallerista ma è anche il non muoversi il gallerista ti dice no ma tu non è che adesso vai a Lausanna e fai la mostra tu adesso ti fermi magari fai due anni fermo perché io dopo ti presento in altro modo qualche forma per cui è una è proprio una scelta ecco io per me è stata forzata ma è stata una scelta che tutto sommato mi ha fatto sopravvivere anche in questo periodo impressionante grazie mille ma vorrei rivolgerti io invece una domanda visto che stiamo parlando un po' di di spazi allestitivi diciamo così e se non sbaglio nel 2011 hai sei stato invitato alla Biennale di Venezia in particolar modo nel Padiglione Italia Trentino Alto Adige e quindi ti volevo chiedere se avevi un po' voglia di raccontarci di questa tua esperienza e insomma allora la mostra biennale in quell'anno era diretta da Sgarbi che adesso conosciamo bene perché è presidente del Mart e in qualche modo funge anche dal direttore decide tutto Sgarbi aveva non voleva avere il Padiglione Italia che è a Venezia come unico spazio espositivo e ha proposto ad alcune regioni ma in realtà hanno aderito quasi tutte di avere una mostra con una scelta di artisti con degli artisti scelti all'interno della della panorama regionale da lui e io sono finito in questa selezione che è stato un miracolo per me anche se poi adesso raccontarla così in qualche forma si è anche capito che questo padiglione lo ha fatto esplodere insomma in quantità ma la scelta è capitata su persone che io che io considero molto valide e nel 2011 e la cosa curiosa io sono entrato con delle piazze che adesso magari vi faccio vedere con dei lavori forse c'ho qua qualcosa sono entrato con dei lavori di questo tipo adesso non sono erano legati a Milano ma insomma dei lavori diciamo bicromatici insomma dove c'era un qualche modo un racconto concettuale dietro un po' più spinto della semplice visione della piazza e se abbiamo tempo vi dedico due minuti ma è stato a Trento a Palazzo Trentini in quell'occasione con catalogo con soluzione molto raffinata ma io ero in Giappone perché io facevo una mostra in Giappone quindi fondamentalmente mi mandavano le foto e i video di questo sgarbi che al tempo era inavvicinabile che parlava della mostra di noi artisti di chissà che altro e io ero appunto in Giappone per tre settimane per una mostra lì quindi l'esperienza è stata curiosa ma è stata appunto variegata per vari motivi ecco e sgarbi dopodiché in qualche modo ha valorato in questa forma alcuni artisti italiani molti di più di quanti non avrebbe sarebbe riuscito ad inserire in un padiglio unico se non ci sono domande tutto il lavoro fatto sulle piazze che adesso magari vi faccio vedere in una forma un po' più tutturata vediamo se ce la faremo arrivare alle immagini ok vediamo sì qua c'è una bella serie questa questa serie che io pensavo tra l'altro fosse un punto di arrivo Roberto prima ha detto mi ha chiesto se evolverò la tecnica io quando ho fatto queste piazze nel 2011 questa era una che è entrata in questa mostra appunto della Viennale io pensavo di aver finito il mio percorso in qualche modo pittorico non sapevo più neanche dove sbattere la testa perché cioè ero convinto di essere arrivato allo stesso tempo mi chiedevo ma scusa arrivato dove e tra l'altro e che bello c'è essere arrivato c'era anche quello arrivato ma però il punto è che in qualche forma avevano avuto un buon effetto generale ma mettevano insieme piacere sia della della critica che in qualche forma del pubblico quindi partecipavo ai concorsi facevo tutto con questi lavori dietro a questi lavori c'è il ragionamento sulla piazza adesso vogliamo recuperare quelli precedenti uno dei precedenti sulla piazza e in qualche modo potrebbe essere Bauman a spiegare questa cosa l'economista sociologo perché quelle non sono secondo me persone sono delle tracce umane di gente che passa in quel posto però ci lascia un pensiero in qualche modo ed è un fluire di umanità in questo luogo quindi non penso non penso ad una situazione statica ad un racconto statico e il colare che c'è che si vede dovrebbe recuperare un po' questa idea della fluidità e l'allontanarmi dalla visione diretta insomma della figura fisica e umana mi permette anche di provare a raccontare con un certo distacco tutto questo fluire io ho due figlie se penso a loro penso che saranno in qualche modo loro a sostituirmi sulla terra ma non è mai finita perché poi il corso è continuo lo sappiamo benissimo noi siamo proprio piccoli insomma e ci sono dei momenti che sono per certi versi mi sembra nei pensieri che sono questa cosa rimane in eterno non sto parlando il mio lavoro per carità parlo per esempio dell'amore non so del senso di famiglia del rapporto con i figli ecco ci sono dei momenti che a me sembra che possono essere universalmente considerati eterni ma se non altro lo considero io e ci metto delle macchie di colore in questi quadri in qualche modo quella era la spinta queste macchie qui in qualche forma sono quelle cose un po' più colorate rispetto al fluire di un fiume umano che liquido che in qualche modo non ha identità o ce l'ha ma ce l'ha come gruppo il punto di vista dall'alto è il punto di vista non visto da me quando ho visitato la piazza anche questo è importante nel quadro perché è quello fantastico che mi permette di distaccarmi anche dalla 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 descrittività eccessiva dal dal particolare dalla anche dalla precisione perché si vede benissimo che non sono preciso nella nella realizzazione questa è la prima che io ho fatto nel 2007 però ce ne sarebbero tante altre adesso vediamo se se riesco a recuperare qualcosa insomma comunque il le piazze sono tante perché sono forse un centinaio e nel corso delle e sono e sono la tematica che io ho prediletto da quando ho iniziato a dipingere nel senso che ancora adesso ogni tanto mi capita di di lavorarci in qualche forum sulla piazza o sul luogo urbano benissimo benissimo grazie e se non ci sono altre domande dal pubblico io vorrei chiudere rivolgendoti un'ultima domanda e quindi discostandoci un attimo di di quanto abbiamo parlato finora e hai anche realizzato delle illustrazioni per di libri per bambini e vorrei chiederti se se hai voglia un po' di parlarci di come sono nate queste collaborazioni ecco allora diciamo in modo personale in modo amichevole ecco per certi versi potrei dire le le prime perché l'amica che mi ha chiesto poi il libro comunque ha preso ha preso piede una seconda che ha scritto proprio in funzione di illustrazioni che avrei potuto fare io magari se riesco però ci metto un attimo non so se voi avete il tempo di attendere se riesco le vado le vado anche a cercare almeno almeno l'ultima l'ultima serie l'ultimo libro il penultimo ecco vediamo però sono libro ok perfetto almeno almeno forse ho anche il libro che sarebbe più intelligente vediamo se si apre però sono sempre state delle collaborazioni quasi in amicizia non mi hanno mai dato da lavorare ecco queste cose salvo l'ultimo con la casa editrice Reverdito dove io sono stato mi è stato richiesto niente sono poco fortunato ho trovato quello che non aveva assolutamente l'illustrazione inserita non si sa come mai va buon destini oltre il mare è uno dei libri ultimi con Reverdito e poi un avvocato avvocatessa o avvocato Kessler mi ha chiesto una 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 serie di illustrazioni che poi sono diventate 70 in un libro molto intimo dove c'è un'introspezione potente ma non vediamo se lo trovo questo potrebbe essere avere senso immagini foto l'eredità vediamo posso farvi solo vedere non il libro ma le immagini però per capire che tipo di rapporto sono le foto fatte prima di poi di inserirlo in un contesto editoriale ecco ho lavorato in una forma molto diversa da quella pittorica classica mia mi è stato chiesto sempre il bianco e nero e quindi io sono entrato in questa logica raccontando con la china episodi all'interno del testo salvo in due libri dove io ho messo mano al colore in modo più esplicito perché erano libri per bambini e abbiamo ho sondato il campo dei libri delle dei romanzi illustrati in qualche modo che è un settore ancora abbastanza nuovo per certi versi romanzi illustrati cioè dove l'adulto si legge il suo il suo testo ma allo stesso tempo è invitato un po' come il piccolo principe abituati a vedere anche le immagini ma non non sono tanti gli esempi del passato vediamo se ho qui eccolo per esempio spero di riuscire ad aprire questo veramente molto fortunello in questa in questa ultima fase di niente potevo ah no è solo un rinomino questo è un libro per bambini che ho illustrato con una cugina però per cui è una situazione molto familiare e questo 5 minuti sul lettone è invece uno che l'ha girato anni fa nelle librerie trentine forse di questo abbiamo le illustrazioni potrebbe anche essere sì eccole qui sempre china però con un contesto colorato mentre quello di burano era tutto ad acquarello vabbè non ci sono case editrici in questo momento forti che mi hanno fatto proposte c'è solo appunto reverdito che però è solita in trentino fa delle belle cose ma non c'è da viversi in ciò insomma per vivere di illustrazione bisogna fare lavori internazionali non c'è non c'è verso abbiamo un'ultimissima domanda prima di chiudere da parte di Letizia che ti chiede se le variazioni cromatiche dalle prime opere le case danzanti coloratissime a quelle successive in bianco e nero accompagnano un'evoluzione delle emozioni o è stata una scelta adettata dal pubblico e dalla critica allora pubblico e critica no assolutamente perché come dicevo fondamentalmente io lavoro in modo intimo in qualche forma e poi mostro i quadri dopo un anno o più e quindi non c'è il tempo per una direzione della critica per un suggerimento critico però io sono passato dal colore al bianco e nero del colore del 2000 bianco e nero del 2007 e poi sono tornato pesantemente al colore tanto che questi gli archi sono 2015 questo le mani 2013 sono entrato nel colore di nuovo adesso manca l'ultimo che è quello delle barche che è 2021 e questo degli alberi è di qualche anno prima è molto è molto il mio sentire e quindi se io sono cupo in qualche modo entro in una logica pittorica che che mi rappresenti in qualche forma e anche per quello che le piazze le ho un po' non abbandonate ma non le ho considerate un passo finale perché mi sarebbe dispiaciuto vivere così per tanto tempo insomma in quel mood ci sono pittori del passato una domanda interessante questa fatta adesso perché in passato ci sono pittori che hanno mantenuto perché vendevano il loro linguaggio stabile e anche magari le loro tematiche proprio vedute veneziane a nastro addirittura Guidi faceva prima tutta la laguna poi tutte le barche poi era una macchina insomma anche Fontana che è diventato famosissimo con i suoi buchi ha fatto buchi fino alla morte perché il gallerista le lo imponeva diceva no 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 qua non ne fai uno adesso ne fai cento che qua li vendiamo quindi ha trovato la fama Fontana perché non ha vissuto bene fino a quel momento lì ma allo stesso tempo poi si è trovato anche a dover fare a dover fare no e quindi certo io spero di non entrare in questa logica insomma però adesso sono rimasto a parte che appunto non avendo un gallerista o un fisso è difficile che qualcuno mi dica cosa fare però potrebbe dirlo il singolo che dice ma però oppure io stesso che dico cavolo sto vendendo un sacco di piazze aspetta che ne faccio altre cento ma non ma non per fortuna non sono così anche perché sennò perderebbe proprio il fascino del quotidiano insomma il bello della pittura è che la mattina ci si alza e si lavora come si vuole e alle volte non si lavora e si lavora domenica o si lavora di notte perché suona così ecco c'è una libertà assoluta scusate sono stato molto lungo io sono babbone no assolutamente assolutamente è stato anzi molto interessante e ti ringraziamo moltissimo di aver condiviso tutte queste osservazioni con noi e quindi diciamo che siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata Matteo ti ringraziamo moltissimo grazie a voi ringraziamo anche il pubblico anche per per le domande interessantissime e alla prossima ciao